In questo mio nuovo video passeremo 24 ore insieme tra alimentazione low carb, boldy building funzionale e il sogno Ironman. Iniziamo! Per me è uno spettacolo incredibile correre in un'esalviera. Esposizione alla luce solare, l'ho anche spiegato bene recentemente in un video, valla a guardare se ti interessa l'argomento. La cosa più semplice e importante che l'essere umano può fare tutte le mattine è quella di svegliarsi e dentro un'ora uscire. Uscire perché? Per esporsi alla luce solare, che non significa guardare il sole dritto negli occhi perché si rovina la nostra retina, significa semplicemente essere colpiti da questi fasci luminosi. Questi fasci luminosi attraversano il nostro nervo ottico e vanno ad attivare quelli che sono i nostri ritmi cicadiani. Quindi a quel punto pressione, temperatura, ormoni, e dicendo sono tutti sincronizzati nel modo corretto con la nostra biologia. Così facendo ci svegliamo carichi, alla mattina siamo carichi, durante il giorno siamo carichi e soprattutto alla sera ci viene suono nel momento giusto e quindi possiamo dormire di qualità. Tornati dalla corsa e adesso vi porto con me a fare la doccia fredda. Acqua calda di là, acqua fredda di qua, fredda al massimo, che poi adesso non è che è così fredda, però iniziamo comunque ad abituarsi a quando diventerà veramente fredda. Ecco. Penso siano sette anni ormai che faccio la doccia fredda tutte le mattine. E se non ci credi, qua sul mio canale YouTube puoi trovare anche due, tre, quattro video in cui faccio bagni nel lago ghiacciato, ma dove ci sto tre minuti, in silenzio, non scappando, dimenando, dimenando in shock assolutamente, completa gestione del respiro. Wow. Allora, prima di tutto, tornato dalla corsa post doccia, integrazione. Questa è la mia super valigetta segreta, dove c'è ogni giorno e ogni giorno diviso per mattina, mezzogiorno e sera, quindi spettacolare, super utile. Magari vi lascio il link in descrizione, vi faccio vedere dove l'ho trovata. Vado a prendere il giorno di riferimento, quindi questo è il martedì, perché oggi è martedì. Apro la sua casella, prendo la mia integrazione del mattino, quindi elettroliti, sempre Keto Food, ovviamente, la mia Keto Food. Poi dopo abbiamo Rodiola, Ashuaganda, Vitamina D3 e K2 e Iosmina. Tutto dentro. Et voilà, adesso prepariamo il Bullet. Negli ultimi mesi, quando prendo Bulletproof Coffee, ci metto sempre dentro una fonte proteica, in particolare, collagene 100% grass-fed, che trovi nel mio sito ketofood.it. Fa benissimo per l'essere umano, perché fa bene per la pelle, fa bene per le ossa, fa bene per le articolazioni, fa bene per i capelli, non nel mio caso, insomma, fa bene per tantissime cose ed è molto molto importante integrare con il collagene e che sia di super qualità e quindi grass-fed. Olio MCT C8 puro, anche questo lo trovi nel mio shop ketofood.it, fa super bene, aumenta lo stato bruciagrassi, aumenta focus e concentrazione, in ketogenica è un plus, è un must-have, bisogna assolutamente averlo, ma a differenza del Bulletproof Coffee, l'olio MCT C8 è dimostrato scientificamente che fa bene anche alle persone che non seguono la dieta ketogenica. Acqua a piacere, ripeto, che sia calda, altrimenti non va bene. Dentro ci mettiamo un bel cucchiaio di burro giallo, io utilizzo burro V-P-T, non è grass-fed, in Italia fa fatica a trovare burro grass-fed, ma è burro giallo da centro di fuga, quindi la miglior qualità che possiamo trovare. Un po' di olio MCT, non più di un table spoon, quindi non più di 15 ml, perché altrimenti potrebbe dare un pochino di fastidio intestinali se non siamo abituati. Io vado a occhio, una roba di questo tipo, va già più che bene. Anche il caffè lo mettiamo in quantità a piacere, ok? Questa è la nostra mocha. Collagene grass-fed, io metto 20 grammi, e 20 grammi di collagene di questo qui sono esattamente 20 grammi di proteine. E' lui. Una cosa che ti voglio far vedere, che magari dopo approfondiamo, è questo libro qua, La Bibbia del Triathlon, scritto, siamo alla quarta edizione, scritto da uno dei più grandi coach di triathlon, Joe Friel, spiega tutto, perché come ti dicevo, uno dei miei obiettivi per il 2023 è quello di chiudere un mezzo Iron, e quindi spiega veramente tutto, ma veramente tutto. L'unico problemino, ovviamente ripeto, è che in inglese che bisogna mascare non solo l'inglese tecnico e scientifico, ma anche tutta la parte tecnica che riguarda l'allenamento, ok? Ma sicuramente è una bomba atomica, ti lascio il link in descrizione. Ok ragazzi, pronti per l'allenamento? Qui dentro la mia creatina, 5 grammi tutti i giorni, lo ricordo, la creatina non è ad opening, la creatina ti aiuta ad ottenere più risultati per un semplice motivo, perché ti aiuta a produrre più energia. Se hai più energia per il tuo allenamento, puoi performare meglio, puoi fare l'allenamento meglio e quindi di conseguenza ottieni più risultati. Perché prima dell'allenamento? Non c'è nessun motivo, puoi prenderla quando ti pare, la prendo prima perché questa è la mia abitudine, così non mi dimentico. Questa alle mie spalle è il mio regno. Diglielo, a quello ti serve. Da un pochino di tempo seguo alcuni triatleti professionisti e in tanti di loro nel luogo spazio di allenamento hanno un secchio. Sai che cosa fanno con questo secchio lì? Ci fanno la pipì dentro. Niente è più sacro di una pausa durante l'allenamento tra un esercizio e l'altro. Quindi se finisci un esercizio, hai 45 secondi di pausa, devi anche andare a fare la pipì, devi salire su, fare la pipì, tornare giù, è un disastro. Quindi so che è una cosa che sembra un pochino brutta da vedere, ma è super funzionale, è una cosa che faccio, non me ne vergogno. Programma di abilitazione perché cosa? Strappo muscolare, qui, 5 centimetri, fatto male, il 5 luglio, se non ricordo male, oggi il 13 settembre, sono passati due mesi e una settimana, inizio a stare bene, non sono ancora perfetto, ma siamo sulla strada giusta. Il programma di abilitazione è terminato, io lo utilizzo come riscaldamento al mio allenamento, perché tanto è super completo, e fate che comunque ci arrivi già morto. Grazie a tutti. Il programma di abilitazione è terminato, morto e giusto. Uova, ok, numero 0, allevate a terra, un po' di verdurino, mandor, il burro ce l'abbiamo, kefir, frutti di bosco, poi dopo stasera, ci sarà ovviamente carne grass fed, con patate dolci, adesso in ammollo, per una super ricarica di carboidrati. eccoci qui, guarda, voilà, vedi, quando il tuorlo si lo rompi ed esce ancora liquido, vuol dire che le uova sono cotte nel modo perfetto, quindi abbiamo delle uova, sopra ci ho messo un pochino di pancetta, poi dargli un pochino più di sapore, e poi dopo, che cosa abbiamo? Abbiamo del kefir, abbiamo della verdura, abbiamo mandorle e frutti di bosco. voglio farti capire una cosa molto importante, io avrei potuto cadere nel tranello, di volerti far vedere la giornata perfetta, e quindi venivo qui con un salmone appena pescato, avocado, insomma tutte le robe perfette, che poi però non sono la realtà di tutti i giovani, quello che dobbiamo tutti quanti capire, è che chi ottiene dei risultati, li mantiene nel tempo, ha costanza in quello che fai, questo significa anche che ha costanza nei piatti che mangia, non improvvisa tutti i giorni, trova 4, 5, 6, 7 ricette che funzionano, che sono perfette per il suo corpo, per la sua salute, e per i suoi obiettivi, e le replica a costanza, all'infinito. Qui in tanti fanno l'errore del ah ma che noia, si mangiano sempre le stesse cose, errore clamoroso, perché chi si nasconde dietro la scusa della noia, di mangiare sempre le stesse cose, è poi chi non raggiunge mai i risultati, perché? Perché si trova sempre impreparato, non ha mai gli ingredienti per fare le cose giuste, non sa mai che cosa mangiare, non sa mai che allenamento deve fare, e quindi rimanda, 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 e passano i decenni e siamo sempre uguali. Chi raggiunge degli obiettivi, fa le cose che funzionano con costanza, e questo significa anche piatti a ripetizione, anche perché chi mangia la pasta tutti i giorni, le merendine tutti i giorni, non è che mangiare una merendina piuttosto che un'altra, c'è tanta varietà, o fare un sugo per la pasta piuttosto che un'altra, cambia così tanto, assolutamente no. Questo è il mio piatto, non conto niente, so solo una cosa bene, ovvero quante proteine ci sono nel mio piatto, e attorno a quello gira tutto il resto. Io faccio tre pasti nella mia giornata, ogni pasto deve avere 40, meglio ancora, 50 grammi di proteine, che prendo da fonti semplicissime e naturali, che sono uova, pesce, carne grass fed, ed eventualmente quasi tutti i giorni, collagene e proteine whey. Qui non si vede bene, ne parleremo in modo più approfondito, magari in un video più avanti, se vi interessa, ma in questa tabella che vedi qua, c'è tutta la mia stagione sportiva, già pianificata, da ottobre a settembre dell'anno prossimo, nel dettaglio, o meglio, mi manca di andare nel singolo allenamento, della singola settimana, ma a livello di pianificazione, periodizzazione, di quello che mi serve per raggiungere i miei obiettivi, è già tutto qui, ovviamente è un lavorone, che deve continuare, per andare poi dopo, come dicevo prima, più nel dettaglio, perché ormai stiamo per iniziare. Allora, ultimo libro, che sto ancora leggendo, perché è veramente una bestia disumana, è questo qui, di James Di Nicolo Antonio, Win, e serve per, molto tecnico, molto molto tecnico, per la preparazione sportiva, insomma, ci sono delle chicche, che non si trovano assolutamente da nessuna parte, lui è veramente un mostro, è un librone infinito, c'è della roba dentro, che fa veramente, veramente la differenza, che pian piano vi sto dicendo, poi attraverso i miei contenuti, tutti i giorni sui social network, super consigliato, James Di Nicolo Antonio, sta diventando uno dei miei preferiti in assoluto, e ogni giorno è veramente fonte di grande, grande ispirazione. Arriviamo allo spuntino, dopo il pranzo, quindi tra il pranzo e la cena, in genere lo faccio intorno alle 5, e adesso sono le 4 e mezza, d'accordo? Allora, yogurt greco, Keto Choc, della mia Keto Food, ci tengo sempre molto a dire, della mia Keto Food, perché? Perché non voglio sembrare un influencer, che sponsorizza prodotti a caso, giusto per guadagnare dei soldi, questa è la mia Keto Food, e quindi prodotti eccellenti, con ingredienti eccellenti, basti pensare che abbiamo circa in totale, sulle 3.000 recensioni raccolte su Trustpilot, 5 stelle, quindi molto proud della cosa, olio MCTC 8, Keto Food, e proteine whey, grass fed, mono ingrediente, neutre, il top del top del top, le ho trovate recentemente, vi lascio in descrizione il link Amazon, non sono Keto Food, e le consiglio fino a quando ovviamente, non le avremo noi, su Keto Food, un bel cucchiaio pieno, di Keto Choc, una Keto Choc, è una crema alle nocciole, nostra, con 60% di nocciole, IGP del Piemonte, e cacao puro, 100%, strepitosa, ve lo dico io, vi basta leggere le recensioni, che abbiamo su questo prodotto, stratosferiche, dicono tutta la stessa cosa, ora, prendiamo, un bel cucchiaione di Keto Choc, dentro, e quello che otteniamo, non so se si vede, è uno strepitoso, budino, sano, e incredibilmente gustoso, cenetta di stasera, spettacolo, bianco stato, grass fed, pazzesco, e, patate dolci, in cottura, eccoci qui, siamo arrivati alla cena, bianco stato, grass fed, patata dolce americana, per la giornata, prima che facessi play, stavo abbagliando, non è vero, non è vero, patata dolce, ok, per una super ricarica dei carboidrati, e patata dolce, ricca di amido resistente, fa benissimo, per il nostro intestino, poi in realtà, io ne preparo sempre, un pochino di più, in modo che nei giorni a seguire, taglio delle fettine, e le mangio durante la giornata, quando faccio allenamento, dopo averle messi in frigo, tutta la notte, quindi adesso lo fate, stanotte le metto in frigo, lasciandone in frigo, per almeno 12 ore, aumenta in modo, pazzesco, il contenuto di amido resistente, quindi diventano ancora, molto più sane, eccoci qui, alla fine di questo video, ho appena finito di montarlo, lo caricherò, tra pochissimi minuti, oggi è 6 ottobre, come sentito durante il video, il video l'ho registrato, che era circa, il 12 settembre, sono quasi passate, quindi ormai, tre settimane, in tre settimane, le cose sono cambiate, tantissimo, infatti come sentito nel video, ho iniziato la mia preparazione, agonistica, per il triathlon, perché nel 20-23, voglio chiudere, un mezzo Ironman, quindi in realtà, quello che sto facendo, in questo momento, sono due allenamenti, tutti i giorni, tra pesi, nuoto, bici e corsa, mi farebbe molto piacere, illustrarti, tutte queste varie giornate, all'interno appunto, della mia vita, se ti fa piacere, se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere nei commenti, se ti è piaciuto il video, lascio un mi piace, puoi condividerlo con chi vuoi, ovviamente mi fa solo piacere, se non sei iscritto a questo canale, iscriviti e noi come sempre, ci vediamo nel prossimo video, grazie per averlo guardato.